Non vorrei che emergesse tra queste cose che ci siamo detti, che il ruolo del regista rispetto al musicista si dì di solo a uno che deve dire che gli piace o no, o che sta zitto. Non è così. Si parla, si interviene, anzi la cosa forse che ci lega è tutto questo. Poco fa io vi ho raccontato un aneddoto forse estremo che ho apportato a trasformare completamente il pezzo. Ma in genere, non è vero come dicono certi miei correnti che a quel punto la musica è già fatta e non c'è più niente da fare. Si possono fare un sacco di migliorie, di correzioni. Lui legge il pezzo sulla scena. E io magari sto gioco per il pezzo, magari penso che l'attacco sia troppo drammatico. Allora io lo dico, guardendo, ma che inizio? L'inizio è troppo drammatico. Allora lui trova mille soluzioni per attenuare. Non è soltanto un fatto di energia, magari elimina qualcosa, oppure usa mille modi. Me ne ricordo tanti. C'è il quaderno dall'inizio è troppo drammatico. Lui togli il tremo dagli atti, oppure chiudo una sezione. Oppure, fra il contrario, rende tutto più forte il resto, il tutto che vieni inizio, il rapporto sempre più. E tante cose. Oppure, guarda, quel sincrono che abbiamo studiato è troppo retorico, allora scarica un po'. Ci possono fare mille delle cose ancora in sala di registrazione. Se si è rapidi nel comunicare quello che pensi, lui rapido vuoi risolvere. Il problema è, oltre alla regia, se tu la tua riserva non gliela sai esprimere per troppo tempo, questo diventa un grande problema, anche per il musicista, ma anche per la produzione, per l'editore musicale. Ecco, credo che il nostro rapporto sia caratterizzato da questo fatto. Quello che vi dicevo prima, cioè di essere sempre più esigenti l'uno con l'altro, quando lui legge un pezzo e mi dice com'è, lui s'aspetta che io gli dica delle cose. Stavolta succede, quindi guarda, va benissimo, però facciamolo, poi ne parliamo. Poi magari durante l'intervallo gli dico, senti, lo puoi fare lo stesso da quell'altro tema? E lui magari in una pausa prende l'altro tema, lo disciplina sulla base delle durate e dei sintomi del bisogno. E fa una seconda versione. Quindi è un lavoro di approfondimento, di ricerca, che non si esaurisce solo perché si è davanti all'orchestra e l'orchestra costa. Tutto, anche il set di cinematografia lo costa. Però quante volte tu modifichi una sequenza lì, appena la provi, avverti subito che c'è qualcosa che non funziona, cambia. Quello è il vero del nostro mistero. Non accontentarsi mai di quello che ti si offre e non pensare mai che non ci sia la possibilità di migliorare. Quello è il dettaglio, quando gli dici, legge, con le suona. Quando il dico legge, si vede a lui, con l'orchestra, M5, che sarebbe il brano musicale del film numero 5. Da il via e l'orchestra lo esegue. Sarebbe la prima lettura, che poi lui collegge anche il discorso. Dopo la prima lettura, che se io non dirò a nessun libro, lui ha delle comprensioni da fare. Però questa è la prima lettura, cioè il penso come scritto. Poi dopo la prima lettura, finalmente, anch'io ho sentito, potassi che ci sia qualcosa nella scomentazione, che non diverso altro, io lo dico, e lui elimina qualcosa, ma questo lo eliminiamo. Poi lo facciamo in sovrapposizione, per esempio. Magari lui legge il pezzo, il suo lista è un ghioloncello, ma io penso che non va bene. Però lui lo elimina e poi dice, perché ci vuole? Ah, forse sarebbe meglio un sassone. No, allora facciamo un sassone. Lui poi a fine spiega perché è meglio un sassone, anziché un altro. E lo fa in sovrapposizione, quindi il pezzo cresce, ti modifica, sulla base di ciò che ci diciamo. Sulla base dei dubbi. Magari lui legge un pezzo, appunto, e io leggo che ha fatto due versioni. Quindi evidentemente ci hanno avuto un audio, e fa due versioni, me le offre tutte e due, e guarda la prima, c'è una versione, perché mi risulta più giusta. Ma tutte queste cose lui le fa, perché noi abbiamo parlato a lungo del film, non è che non fanno versioni avusse da un contesto. Lui le fa perché conosce benissimo il contesto del film. Sa, ha già letto la scenicettura, ne ha detto forse anche qui di una versione, e al momento della registrazione ha già visto il film. E ora magari, dopo che l'ha visto, mi viene in mente di fare una seconda versione, o anche una terza, è molto generoso lui in questo, devo dire, non è uno che si tiene. Per esempio, quando cominciamo all'inizio a pensare ai temi di un film, lui, ogni tema che abbiamo stato lì, mi fa sentire almeno tre versioni, al pianoforte. E lui ci canta sopra. Allora, appunto, avrei di niente, dicono che lui non canta bene. E qui sicuro, che sicuro, non è un grande cantante, ma a me piace come lui canta. Perché in quella, in quella sorta di... ingenuità canora, mi trasmetto una grande emozione. Grazie. Grazie.